cicloturisti e cicloturisti buon salve benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale oggi una location spaziale spettacolare beh state vedendo il video se lo state vedendo sul canale youtube mentre anche l'audio secondo me state apprezzando una qualità maggiore perché sono negli studi bike tv perché voglio intervistare oggi e presentarvi una persona davvero molto particolare che è daniele ciao a tutti ciao a tutti io sono daniele sono di varese 39 anni guida tandem di un ragazzo non vedente di parma insieme formiamo un equipaggio tandem del ciclismo su strada ciclismo su pista e usiamo anche il tandem da mountain bike per divertirci nei vari sentieri del nord italia mi piace perché tra l'altro è fantastico che ti sei introdotto da solo è bellissimo perché daniele poi adesso lo vedrete lo conoscerete meglio ha tantissimo da raccontare ha un sacco di esperienza trova anche lui in scatto fisso quindi big respect vi dico già di seguirlo sui social che trovate qua sotto in descrizione parliamo però adesso daniele di un po il mondo tandem ok il mondo tandem è per me particolare nuovo abbiamo parlato ci siamo conosciuti adesso un po però per me è davvero particolare ti chiedo com'è che hai iniziato innanzitutto perché insomma non c'è una scuola che ti insegna ad andare in tandem nel senso a fare soprattutto quello che fai tu e poi magari se ci dici qualche risultato che hai ottenuto nella tua carriera allora io ho iniziato col tandem nel lontano ormai anteguerra del 2007 tramite un amico mi diceva che aveva bisogno una guida per fare un campionato italiano su pista varese io essendo di varese giocavo in casa e allora ho detto ma sì dai proviamo il tandem la pista di varese ormai la conoscevo la conosco ancora tuttora perché ci giro spesso quindi su tre prove ne ho vinte subito due e da lì è stato un amore a prima vista per il tandem e niente piano piano siamo andati sempre crescendo siamo andati sempre migliorando il tandem è ormai è quasi un una consuetudine usarlo lo uso quasi tutti i giorni nella quotidianità anche del paese quindi per me il tandem ormai fa parte fa parte di me ok quindi tu hai iniziato così un po per caso poi mi raccontavi a correre nell'ambiente prima paraolimpico e poi non più paraolimpico però sempre con ragazzi disabili che in particolare sì 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 ho iniziato a correre nell'ambiente paralimpico subito nel 2007 2008 siamo andati sempre migliorando abbiamo vinto tantissimo 15 campionati italiani ho partecipato a due campionati del mondo ho vinto il primo giro d'italia paralimpico che si è svolto nel lontano ormai 2015 ho ancora il record italiano nel seguimento su pista su una pista scoperta quindi un piccolo curriculum ce l'ho anche io diciamo che tu spingi spingi di brutto possiamo dirlo e invece il tuo compagno che appunto non è qui ma come vi siete conosciuti e da quanto corri insieme a lui ci siamo conosciuti nel 2008 in una corsa tandem in veneto e da lì niente abbiamo cominciato piano piano a diciamo uscire assieme in bici lui ma mi ha fatto capire un po come funzionava anche il tandem su pista e da lì piano piano siamo andati sempre evolvendo il mezzo e il tandem è andato sempre migliorando quindi dal cambio meccanico siamo passati al cambio elettronico dai freni normali siamo passati ai freni a disco dalle ruote diciamo commerciali siamo passati anche a delle ruote artigianali fatte a mano da un artigiano di varese quindi piano piano il mezzo si è sempre evoluto l'ho sempre evoluto anche assieme con graziano quel ragazzo che porto l'abbiamo sempre sviluppato assieme ok e poi con questo continuo miglioramento come dici tu parte l'idea un po particolare che state cercando di che porterete spero anche insomma che porterete nella provincia di varese ma che speriamo di pubblicizzare il più possibile perché racconta un po che cos'è in cosa consiste la tua impresa e qual è l'obiettivo di questa di questa impresa allora io graziano abbiamo in mente un'impresa grossa nel senso che noi vogliamo fare l'everesting che praticamente bisogna concludere il dislivello dell'everest quindi 8848 metri su una sola salita abbiamo deciso di farla sulla salita del campo di fioravarese che dobbiamo ripeterla per 14 volte con partenza alla mezzanotte del 26 di giugno quindi io vi aspetto dobbiamo concludere le concluderemo queste 14 scalate saremo il primo tandem a livello mondiale a fare l'everesting e saremo anche il primo ragazzo graziano sarà il primo ragazzo non vedente a fare l'everesting in tandem spettacolare no spettacolare questa cosa 14 salite appunto ho chiesto a daniele di spiegare per bene che cosa che cosa sia l'everesting perché magari è un'attività che qualcuno di voi ha già sentito che fanno specialmente insomma i professionisti bisogna essere veramente molto preparati però farlo in tandem prima parlavamo comporta una serie di difficoltà in più quali sono daniele un po le le difficoltà che andrete ad incontrare delle quali mi ha anche già un po parlato in altre gare o comunque in altri percorsi che dopo dopo parliamo anche di quello perché sono sicuro che è un argomento che affascina e come qual è un po la vostra strategia per per portare a termine questo everesting allora l'everesting dobbiamo portare a casa 14 scalate queste 14 scalate abbiamo pensato di fare di modificare i rapporti sul tandem quindi di non usare una classica corona come si usa con la bici da strada quindi per chi non è del mestiere o non è dell'ambiente noi su strada sulle corse normali usiamo un 53 39 qua in realtà useremo un 50 34 con una scala dietro 11 34 perché non dobbiamo fare le prime salite fortissimo anzi dobbiamo andare molto molto piano queste scalate vanno fatte diciamo come una passeggiata però in realtà è un evento grossissimo dove soprattutto la testa ti deve portare al raggiungimento delle 14 scalate sia per me che per graziano esatto perché appunto questa è la cosa particolare che a me mi ammazza perché già l'everesting è difficile oggettivamente ma non sei da solo a farlo e che può essere sia un vantaggio ma anche uno svantaggio prima tu mi parlavi ad esempio quando crolla uno crolla anche l'altro quindi ci deve essere molta molta sintonia tra di voi e com'è che si può portare avanti questa sintonia e come farla diventare qualcosa che fa diventare l'impresa un successo esatto noi dobbiamo essere un noi siamo un tandem affiatatissimo dobbiamo assolutamente confortarci l'uno con l'altro quindi quando è in difficoltà l'uno dobbiamo sopportare quell'altro dobbiamo cercare di fare queste 14 scalate sicuramente ci sarà anche della compagnia che ci verrà a farci compagnia su per queste 14 scalate quindi dobbiamo piano piano portarli a casa abbiamo un team dietro di noi che ci supporta in tutto e per tutto dai meccanici ai massaggiatori abbiamo una nutrizionista che ci segue quindi possiamo e vogliamo portarlo a casa vogliamo arrivare a questo record qua ma soprattutto poi diciamo Daniele anche il perché di questa iniziativa perché appunto non è legata solo a raggiungere quello che è un obiettivo sportivo che è tanta roba ma qual è anche lo scopo di questa di questa vostra sfida allora Graziano è un atleta come ti dicevo prima non vedente quindi anche i suoi fratelli sono degli atleti non vedenti quindi sono in tre in casa non vedenti lui vuole portare questo messaggio qua alle persone di tutta Italia e di tutto il mondo dicendo che anche un atleta non vedente può fare tutto fare l'everesting è una cosa non per persone normali ma per dei supereroi quindi noi ci dobbiamo pensare che siamo dei supereroi per portarlo a casa e lui soprattutto anche di più quindi io già adesso vi faccio vi faccio l'in bocca al lupo è tanta roba quello che state cercando di fare quindi sono sicuro che le persone che stanno guardando questo video oppure ascoltando questo podcast saranno già andate in descrizione a vedere un po' in cosa consiste la loro impresa perché appunto tu mi hai detto che ci sarà la possibilità di supportarvi ed è aperto l'evento a covid permettendo chiaramente seguendo le normative allora la strada è aperta al traffico abbiamo deciso la sede del campo dei fiori perché ormai per me è una palestra di allenamento la uso quella strada diciamo quasi tutte le settimane ci salgo quasi tutte le settimane quindi io vi aspetto per fare una scalata due e tre assieme per darci del morale per sopportarci per queste 14 scalate partiremo alla mezzanotte e orario previsto io penso intorno alle 18 e 30 19 della sera quindi tuttavia aspetta quante ore sono se parti mezzanotte e arrivi alla 18 ore e mezzanotte 19 quindi speriamo tu in cosa conti 18 hai un obiettivo o l'importante è portare a termine io sono ottimista cioè ci sta anche no che io capisco già portare a termine l'everesting deve essere una soddisfazione però so che secondo me conoscendoti un po' così cioè hai un obiettivo allora io sono l'obiettivo è le 18 ore non male non è male devo soprattutto io devo guidare benissimo anche in discesa perché devo essere molto molto lucido in discesa perché devo portare sia il tandem in salita ma anche il tandem in discesa quindi devo essere molto lucido per per le 14 scalate per le 14 discese quindi le 18 ore è una parentesi nel senso che vogliamo il mio sogno è le 18 ore però anche 19 19 e 30 va bene anche così andrebbe bene anche così ok va bene abbiamo parlato delle difficoltà anche di quello che può essere il risultato finale qualche modo cercare di ispirare magari i ragazzi non vedenti oppure con una disabilità che anche sfide così si possono portare a termine tu però in realtà di sfide così ne hai già fatte ne hai già fatte un po' nella tua carriera perché appunto il tandem abbiamo detto che non è per te una cosa nuova ma anzi quasi uno stile di vita immagino ma qual è se mi devi raccontare prima abbiamo parlato per esempio della Milano Sanremo in tandem così che io ok perfetto fantastico ma se devi scegliere uno dei percorsi più tosti difficili che hai portato a termine fino a questo Everest in tandem se mi vuoi raccontare magari un episodio o qualche episodio se hai qualcosa in mente allora che magari può servire sia sai cosa da dire a raccontare quello che è lo sforzo che avete fatto ma anche ad ispirare perché io non lo so adesso chi sta ascoltando questo podcast ma magari anche lui è un ragazzo con delle disabilità con dei problemi fisici che però dice cazzo ce la stanno facendo stanno facendo qualcosa di figo perché non posso provare a farlo anch'io allora una cosa che racconto sempre una cosa che mi è sempre nel cuore e il giro del Belgio del tandem si svolge sempre, adesso ormai non si fa più da qualche anno però si svolge sempre a cavallo tra aprile e maggio e si corre con 30 tandem su stradine del Belgio settori di pavé una cosa che mi piace c'ho sempre a mente quando nel lontano, ormai diciamo nel 2010 si correva il giro del Belgio e eravamo in settima, ottava posizione si stava entrando in un settore di pavé erano 5 tandem spagnoli davanti noi eravamo lì più o meno davanti quindi cercare di come si dice in gergo di mare le posizioni per non perdere neanche un metro perché col tandem se si perde un metro ormai ti me lo spiegavi prima perché magari io non sono tecnico del tandem non so veramente zero del tandem però Daniele mi ha già fatto in mezz'ora una cultura totale su come portare a termine una gara perché appunto mi spiegavi che cioè se tu perdi un tandem esatto, se perdi un metro dopo fuori dal settore di pavé ne perdi due, ne perdi tre ogni rilancio ne perdi 4-5 dopo è finita la corsa quindi bisogna sempre star lì limare in gergo il più possibile e cercare di andare a scremare il gruppo quindi piano piano le corse andavano sempre scremando quindi il giro del Belgio ritornando un passo indietro mi è sempre stato nel cuore il Belgio ormai per me diciamo che quasi la mia seconda casa quindi quando ritornavo sulla era come diciamo stare in famiglia anche se qualche volta dico la verità sono uscito anch'io con le ossa rotte dal Belgio quindi sai il Belgio o lo ami o lo odi ok io ho beccato sempre pioggia quando ci ho viaggiato quasi sempre pioggia tra l'altro scatto fisico quindi tu a te magari è andata a me fortunatamente mi è andata di lusso che ho beccato solo un giorno di piogge molto fortunato allora sono stato abbastanza fortunato gioie e dolori e tra l'altro come mi dicevi prima un'altra cosa che è interessante mi dicevi che le gare non si vincono in volata perché è impossibile con un tandem è quasi impossibile è quasi impossibile che si arrivi a una volata di gruppo compatto di tandem quindi il gruppo piano piano si va sempre di più scremando fino a che davanti non si è quei 4, 5, 6 più forti al mondo dove si va piano piano a giocarsi la corsa che dopo vabbè anche lì ci sono le varie strategie ci sono i vari accordi anche lì quindi sai bisogna sempre anche stare lì a capire i vari accordi tra nazionali piuttosto che magari tra equipaggi del tandem quindi anche lì bisogna capire un po' come funziona la corsa e magari prenderli certe volte anche il contropiede ok è un gioco un gioco anche di squadra non solo di coppia diciamo così esatto sì perché appunto tutto parte dalla coppia dalla sintonia dicevamo prima però non si ferma lì qual è la cosa più difficile in generale in una gara secondo te? a livello proprio di tandem dicevi prima che cioè partire in 30-40 il tandem non è una bicicletta il tandem è quante lungo il tandem? un metro 80 diciamo insomma è abbastanza abbastanza grande cioè immaginatevi 30-40 coppie esatto così giganti che partono insomma ogni curva diciamo che io dico in gergo è una sportellata nel vero senso della parola esatto perché ok quindi ogni curva bisogna sempre arrivare lì nelle prime due tre quattro posizioni per prendere la curva bene non bisogna essere in quindicesima ventesima posizione perché si rischia sempre di rimanere indietro di essere magari incastrati con gli altri tandem quindi quelli davanti vanno e te sei sei lì se c'è una curva con un settore di pavè bisogna essere davanti perché se no rischi che se non entri forti nel pavè esci ancora più piano quindi bisogna entrare forte e uscire ancora più forte quindi ogni curva è una sportellata bisogna avere della grande sintonia con l'atleta non vedente e bisogna anche magari certe volte raccontargli la corsa anche se le decisioni le prendo solo io le prende solo la guida e bisogna magari anche non dirgli delle decisioni che si prendono perché le prendi in una frazione di secondo non puoi stare lì a spiegare e non gli spieghi gli dici vai 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 spingiamo che magari siamo lì a 50 100 150 metri dall'arrivo e lui magari non è si rende conto che siamo all'arrivo ma glielo devo spiegare io magari in un secondo momento e sono decisioni abbastanza brevi si spiegarglielo mentre sei concentrato sulla guida magari hai di fianco le persone che compitono contro di te in una curva c'è tutte queste cose insieme in una frazione di secondo inizia a diventare cioè questa è veramente una delle cose più difficile la comunicazione perché di base ci deve essere sintonia questo l'abbiamo capito però comunicare è anche quello esatto poi se vai a fare delle corse internazionali che ci sono anche le altre nazioni devi anche farti capire un po' in inglese un po' in francese quindi devi anche magari ok sai anche a gesti farti capire dire andiamo non andiamo go go piuttosto che molliamo un attimino che magari ci stanno riprendendo respiriamo sai sono quelle piccole frazioni di secondo che devi decidere cosa fare nel modo giusto e nella maniera giusta perché se si sbaglia si rischia di finire a terra e la corsa è finita certo e finire a terra col tandem è una cosa peggiore non lo auguro a nessuno ok tu sei finito mi sembra di aver capito un po' di volte da come me lo dicevi ok e ovviamente cioè tra l'altro non so prova a mettermi anche nei panni della persona che ti sta dietro cade nel vuoto cade nel vuoto questa è tosta deve esserci ok sintonia torniamo sempre qua però anche molta fiducia nei tuoi confronti esatto da parte della persona che ci ritro poi mi dicevi mi raccontavi anche prima ci deve essere una comunicazione anche per esempio banalmente cioè tu sei come un fratello per lui sei la sua guida esatto io sono la sua guida dall'hotel a quando siete in sella esatto sì se si va in hotel che non conosciamo quindi io devo spiegargli dove è il bagno dove sono i letti quindi devo spiegargli un po' tutto e la cosa bella che mi emoziona ogni volta che vado è che quando diciamo tra virgolette si vanno a fare delle passeggiate magari delle passeggiate lunghe gli posso raccontare anche il paesaggio perché Graziano come magari altri atleti non vedenti Graziano è buio totale quindi è come se mettiamo una benda e non vediamo niente quindi io gli voglio io gli racconto il paesaggio gli racconto magari anche dove sono magari degli eventuali pericoli tipo i dossi tipo magari il marciapiede piuttosto che poi magari faccio lo faccio lo stesso senza dirgli niente ma se ormai c'è io che lui lui sa come guido io e io so come si comporta lui quindi vabbè è che già sto pensando adesso che ok essere atleti e portare avanti queste cose è già di per sé difficile perché tu mi dicevi prima che so la Parigi Roubaix o la Liegi Bastogliegi sono alcune cose che avete avete corso ma anche la Milano Sanremo cioè è una mazzata però non è solo portarle a termine è anche cioè cioè che nel frattempo tu le stai spiegando o devi portare con te cioè la comunicazione totale mentre stai facendo sforzo fisico devi raccontare cosa sta succedendo devi comunicare devi parlare a questa persona quindi la difficoltà aumenta diciamo che devi essere ti devi dividere non in due ma in quattro perché ecco appunto esatto perché una Milano Sanremo che ho portato a termine devi raccontargli quando c'è lo sport di traffico quando c'è il gruppo compatto quando siamo scesi giù dal Turchino gli ho detto guarda che adesso inizia il Turchino stiamo facendo il Turchino saranno 7-8-10 km di salita non è dura lo stiamo scollinando quando siamo arrivati giù all'Aurelia ormai la conoscevamo il percorso sappiamo più o meno com'è però gli devo raccontare anche i vari semafori perché diciamo che la Milano Sanremo degli Amatori è anche aperta al traffico quindi quindi per lui è ancora peggio esatto quindi noi dobbiamo l'abbiamo portata l'abbiamo portata a termine però gli ho praticamente in nove ore e mezza di corsa gli ho raccontato da Milano a Sanremo questo è ancora più faticoso capito cioè nel senso quello che volevo farvi capire è che secondo me già a livello atletico è tosto per una persona fisicamente ma cioè immaginatevi di parlare continuamente con questa persona nel senso anch'io viaggio in bicicletta però sono da solo quindi lo sforzo è tutto mio e come dicevi forse dicevamo anche prima nel senso è sia in positivo che in negativo nel senso che tu puoi essere gasato pimpante e quindi lo è anche la persona che ti porti dietro oppure può essere viceversa potete essere entrambi spompi esatto diciamo che il tandem il brutto del tandem è che quando uno dei due va in crisi perché ci può stare in una corsa una Milano Sanremo un giro delle fiandre sempre ti parlo a livello randonè ci può stare di andare in crisi quando si va in crisi uno dei due quello che è la guida o il non vedente deve sopportare lo sforzo anche di quell'altro quindi piano 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 anche quello che sta supportando lo sforzo andrà diciamo scemando e andrà piano piano anche lui entrando in crisi quindi dobbiamo devo essere soprattutto io che sono la guida essere bravo a gestire lo sforzo gestire il momento giusto per per dove mangiare per dove bere per capire quando è il momento di spingere forte per quando è il momento di rilassarsi nel modo giusto ok un'altra domanda che ti volevo fare che secondo me può incuriosire molto chi magari esce in tandem già di per sé è allenamenti perché tra l'altro appunto voi non siete vicini tra virgolette di casa covid lo clown regioni di mille colori diversi come si fa a mantenere la sintonia dovendo mantenere la sintonia però da separati allora io e Graziano abitiamo uno a Varese io e Graziano abita a Parma ecco quindi abbiamo 250 km di differenza tra l'una e l'altra non usciamo tutti i giorni assieme perché è praticamente impossibile come fate esatto Graziano ha degli amici io li chiamo gli amici del tandem che si alternano a portarlo fuori tutti i giorni o quando anche loro non hanno impegni familiari però la forza la nostra forza è che lui si si allena su un diciamo su una ciclette ma in realtà è un ciclo mulino dove praticamente simula perfettamente la strada quindi io mi alleno a casa con la mia bici normale diciamo la mia bici singola e lui si allena su questo ciclo mulino qua dove simula perfettamente quindi fa le mie stesse cose abbiamo lo stesso programma di allenamento ci alleniamo nello stesso modo cerchiamo di incontrarci una volta due volte al mese sul lago di Garda quindi siamo più o meno a metà strada diciamo che lui da Parma viene su io da Varese vado sul lago quindi cerchiamo di portarci anche allenarci anche qualche volta assieme ok va bene questo appunto per farvi capire un po' la difficoltà del tutto che però anche nonostante la distanza i ragazzi secondo me hanno buone possibilità di farcela va bene Daniele allora facciamo così io ho altre domande ma anzi voglio chi siate voi che state vedendo questo video che avete visto il video oppure che avete ascoltato il podcast a farle a Daniele e a Graziano ma soprattutto seguiteli perché il 26 di giugno 2021 sulla sete di Campo dei Fiori lo ripetiamo a questo è collegata anche una raccolta fondi si stiamo cercando una raccolta fondi per i cicli sportivi Varesini che è un gruppo di Varese dove diciamo ho iniziato a fare le prime pedalate in tandem quindi questa raccolta fondi andrà devoluta tutta per loro va bene Daniele allora io c'è in senso tanta stima tanta roba quello che stanno facendo quindi ragazzi mi raccomando sosteneteli e se riuscite andate a sostenerli di persona quindi Daniele a me non resta che salutarti grazie augurarti super in bocca al lupo per per questa impresa ti aspetto il 26 giugno spero spero di esserci e niente ragazzi quindi vi salutiamo ringrazio ancora Bike TV per lo spazio perché veramente ci ha portato nello spazio sia io che Daniele è la prima volta per entrambi qua ma speriamo speriamo ce ne siano altre quindi niente ragazzi vi salutiamo e ancora in bocca al lupo ragazzi tanta roba quello che state facendo ciao ciao